e benvenuti raga in questa nuova puntata di rumbel roses rumbel roses ecco allora raga vediamo un po con chi vado allora vediamo un po finora ho fatto reiko miss pincer poi vediamo ho fatto rumbel roses e basta credo comunque controllo ah giusto e ho fatto tizzi quindi mi resta da fare vediamo si va raga vado a fare anestesia quindi buona visione per questa prima parte che io faccio di seguito così almeno ho già tutte e tre le parti pronte lo sapete no? via io sono anestesia i like collecting strong beautiful women what do i do with my collection? i'm glad you asked i examine them to see whether there will be suitable donors i think all'altro scientist needs her lab rats mine run around their cage to perfect Lady X La dottoressa che è il dottore Vabbè La dottore 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 Opa Quasi Ah quasi E uno E due E tre E la bambinista Returnalas de Iroh Get it through your head Effort and ambition mean nothing in this world I can't believe I lost to someone like you I wish I was stronger Good, good Let that frustration smolder a bit into a burst into searing flames That's it Wonderful You'll make a fine do Your wish is my dream come true Cowgirl Cowgirl What a pleasure Sorry darling But I ain't in need of a nurse Let's just get on with it That's not very friendly And I was offering to take you in as my patient Save the half-ass jokes for the waiting room Bring it on Just like I've heard Such a wild mare It's time to break you Divertente Divertente Lazy But that's not very wonderful Tell me Go And it goes She's in the uit 눌러 sapete c'era sai se questa è una interferenza alla fine o cosa e cavallina calma questo si che è il cavallo calcare aia che atterrazzo e a quanta resistenza ha da che voglio fare l'umiliazione non ti vantai troppo bella ecco qua poteva farmi la mossa e forse a chiudermi e beccati questo ok ci sono quasi bene però faccio questo e il mezzo è chiuso la cavallina è stata domata oh oh dear you don't look so well did I overdo it a bit stop the chest puffing I lost a year che risata da non sono strega non sono strega hmm I could let you see her but it's time for your physical I need to see if you make a suitable donut well raga e questa prima parte di questo episodio con anestesia vabbè termina qua e ti vediamo la seconda parte contro Reiko che